Chi è? Sono io! Ah, sei tu! Vieni! Posso? Sì! Che belli, grazie! Vi ho presi dalla donina qui sotto, davanti alla chiesa. Ti sta bene? Che dici, meglio qui o qui? Anche lì, sì. Ma non saprei. Beh, deciditi, qui o qui. Forse per i capelli, non so. A proposito, non penserai di tingeli davvero, eh? No, stai scherzando, no? Se gli darete una volta, siamo finiti. Ma non mi avevi detto che suoni la tromba? La tromba? Ah! No, no, l'artista è lui. L'ho nascosto qui perché sennò disturbi vicini. Aveva messo su una band, eh? Pare che avesse talento e poi... Sempre in giro, pieno di donne. Ma va! Gli piacevano le bionde. Ne ha messe incinta a due. Ah! Sì, come niente fosse. Vieni, la mettiamo in un posto più sicuro. Sì. Qui cosa c'è? Guarda! Dai, vieni qui. Sì. Sì. Avevamo un cugino che vendevamo a Terasso. Sì. Quando la mamma è morta, gli ha chiesto se poteva lasciarne un po' qui da noi. Sì. Visto che si era liberata una stanza. Poi è andata in Australia e non sappiamo più niente. Aspetta, aspetta. Potrebbe vederci. Ancora un bacio, dai. Buono, buono. Basta, basta, adesso. Basta, basta. Aspetta. È l'unica stanza che tengo chiusa a chiave. Tasca destra. Metti che domani il mio cugino torni e li vuoi lì indietro. Ti andrebbe un tè? Volentieri. Vieni. 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 Vieni.